Nella cucina italiana abbiamo la maggior parte dei grandi prodotti che il mondo ci invidia, a volte noi non ci rendiamo conto in Italia di quello che abbiamo, ma basta andare dall'altra parte d'Europa o del mondo e vediamo che il nostro migliore, i prodotti del Mediterraneo, vengono venduti a prezzi molto esosi. Le grappa che sono distillate nel Veneto. Con la nostra azienda facciamo una trasformazione di quello che è il peperone DOP di Ponte Corvo, appunto il mio paese, che è in provincia di Frosinone. Vediamo in questa Italia che ci sono tanti prodotti di eccellenza di piccoli imprenditori che vogliono andare avanti e che fanno ancora la qualità, ma la vera qualità. Bisogna tener conto che qua è la terra dei vini francesi, ma siamo riusciti a far entrare in questo mercato tanti vini del nord e del sud Italia. In Italia abbiamo soli 80 biodiversità di pomodori, 200 biodiversità di mele, che vuol dire prodotti completamente differenti come gusto, consistenza, sapore e anche valori nutrizionali. Stanno i cuochi italiani andarli a cuocere per non andare a distruggere completamente i valori nutrizionali e preservarli al meglio e soprattutto contrastare tutto il falso alimentare. Quindi divulgando in questo modo le originali prodotti italiani, i DOP, i GP, le STG e tutto il meglio dell'agroalimentare italiano, sicuramente lasciamo un bel ricordo dall'altra parte del mondo, anche perché fare cultura, fare sistema è fondamentale e soprattutto possiamo divulgare al meglio in questo modo il nostro Made in Italy.